Bene, direi che possiamo iniziare. Benvenuti e benvenute a questo webinar dedicato alle basi dell'analisi tecnica, quindi ai supporti e alle resistenze. Io sono Fabio Molfese e infine coberto che mi occupo di educational trading. Quest'oggi per l'appunto insieme andremo a vedere quella che è una delle tecniche a mio avviso più utilizzate nel mondo del trading, quella basata quindi sui supporti e sulle resistenze. Andremo quindi a vedere che cosa è un supporto, che cosa è una resistenza, come si creano questi livelli di prezzo, come intervenire in base alla rottura o a una falsa rottura e quindi lo andremo a fare utilizzando delle slide. Mi sentite? Alcuni di voi mi dicono che non sentono l'audio però abbiamo fatto tanti test audio prima. Mi sentite adesso? Credo di sì. Ok, perfetto. Dicevo, lo faremo con l'outilio di alcune slide e poi andremo live su dei grafici utilizzando Fineco X. Prima di iniziare però vi ricordo che questo webinar è registrato e sarà disponibile poi a partire da oggi pomeriggio al massimo domani mattina qua in video library sotto la voce webinar on demand corsi trading. Ok? Qui trovate tantissimi contenuti che possono aiutarvi a iniziare a fare trading e a migliorare le vostre strategie di trading sia sotto corsi trading che strategie operative, live trading di operative e investing per il lungo periodo. Ok? Come di consueto vi ricordo che avete una chat a disposizione utilizzata per farmi tutte le domande del caso così possiamo interagire e possiamo farlo in maniera efficiente ed efficace e vi ricordo che qui da il mio conto gestione servizi e poi cliccando su trading e investimenti avete a disposizione quello che io chiamo il cruscotto delle abilitazioni trading. Qui potete abilitarvi a tantissimi servizi, molti di questi sono gratuiti, altri sono a pagamento se vi è a un costo vi è espressamente scritto. Ad esempio potete abilitarvi all'operatività in derivati, non costa nulla e potete studiare il mercato future e in un secondo momento operarvi. Potete abilitarvi al multi currency, alla marginazione e così via. Ok? Allora, quindi iniziamo direi con delle slide. Ok? Qui abbiamo il programma e lo ripetiamo, cosa è un supporto, cosa è una resistenza, come si creano questi livelli, rottura, posta rottura, come intervenire. Però prima di iniziare vorrei lanciarvi un sondaggio attraverso un'app che si chiama Slaidoo e questo sondaggio ci aiuta anche a comunicare meglio con voi e vi chiediamo come siete venuti a conoscenza di questo webinar tramite area pubblica o area privata, quindi sul sito fondamentalmente, tramite email, quindi una nostra comunicazione, tramite il passaparola, amici, parenti, conoscenti, colleghi che vi hanno scritto magari via Whatsapp o una mail o quant'altro e vi hanno fatto sapere di questo corso, dei post sui social, Facebook, LinkedIn, Instagram e quant'altro o altro, magari altri mezzi. Se non riuscite a vedere il sondaggio scrivetemelo anche via chat, non c'è nessun problema. Ok? Va bene, vedo che area pubblica e email vanno per la maggiore, quindi interrompiamo il sondaggio, era giusto un sondaggio interlocutore. Andiamo quindi al secondo sondaggio, un po' più operativo, questo mi serve per calibrare bene l'aula e per andare a capire qual è il livello dell'aula. Usi già i supporti e resistenze per le tue strategie di trading? Sì, sempre, nel senso che le utilizzo ogni giorno, ogni qualvolta voglio andare a prendere una posizione sui mercati finanziari. In passato, ora mi baso su altre analisi, ad esempio non le uso più ma uso l'RSA, lo stocastico, il MACD, quindi altri indicatori, le bande di Bollinger e quant'altro, oppure qualche volta ma devo approfondire meglio, oppure sono le prime armi e vorrei approfondire meglio. In ogni caso, sia che le state utilizzando da tanti anni o quando le avete ben utilizzate, siamo nel posto giusto perché ci fa sempre bene magari rinfrescare alcuni concetti o comunque approfondire alcuni concetti per poter operare in maniera informata, ok? Questo sondaggio magari lo lascio scorrere un po' e andiamo al primo punto. Che cosa sono i supporti? Mi dite se vedete la slide gentilmente. Dovrebbe esserci la prima slide sui supporti, ok, perfetto, perfetto. Allora, che cosa sono i supporti? Chiudiamo il sondaggio per il momento, diciamo che è molto ponderata l'aula e quindi va benissimo. Il supporto è un livello del grafico dove i compratori sono più numerosi dei venditori, per cui si osservano aumenti nei prezzi dell'azione, dell'obbligazione, del future, qualsiasi cosa voi state osservando sul grafico, qualsiasi strumento finanziario, lì dove c'è, diciamo, un rimbalzo tecnico di breve periodo, di medio periodo o di lungo periodo, lì i compratori sono stati più numerosi dei venditori. Oppure, oppure, vi sono state delle ricoperture tecniche da parte di coloro che avevano venduto allo scoperto quel titolo, ok? Ricoperture tecniche vuol dire che chiudono le loro posizioni short, ribassiste, ricoprono, quindi acquistano sul mercato e quindi vi è un rimbalzo tecnico dello strumento finanziario che stiamo analizzando, ok? Allora, questo è un grafico di Eni mensile, spero si veda bene, dopo magari lo andiamo a vedere meglio, proprio aprendo Fineco X. È un grafico mensile, cosa vuol dire? Che ogni candela verde o rossa che vedete esprime l'andamento di un mese di mercato, ok? Quindi primo gennaio, 21 gennaio, primo febbraio, fine febbraio, primo marzo, fine marzo e così via, ok? Ripetutamente negli anni. Questo è un grafico storico, sono riuscito a prendere proprio tutta la storicità di Eni e l'ho fatto apposta perché nel medio periodo, quindi dopo il crollo delle azioni dovute al Covid, quindi Eni, produttori di petrolio, energia, nessuno più faceva il pieno di benzina e quant'altro, è crollato il titolo. Dove si è andato ad appoggiare? Su un supporto di lunghissimo periodo. Qui, ok? Ai prezzi dove avvenne la prima quotazione del titolo. Si è appoggiato lì e ha ricaricato per un nuovo allungo sul mercato e quindi per un nuovo segnale long. Sono supporti di lungo periodo anche questi qua. Perché di lungo periodo? Perché chiaramente vi era un supporto qua intorno al 2016, quindi tanti anni fa, vi era un supporto qua intorno, cos'è questo? Al 2001, quindi tantissimi anni fa e un'area di supporto sempre intorno fine anni 90, inizio 2000. Quindi di lungo periodo. Cosa vuol dire? Vuol dire che questi prezzi non si vedevano da tantissimi anni e tantissimi anni fa intorno a questi livelli di prezzo l'azione ha fatto qualcosa. Si è appoggiata ed è ripartita oppure è stata quotata e ha avuto un strabiliante al lungo realzista di tanti anni. Ok? Quindi andando a vedere il grafico, senza indicatori, senza nulla, tracciando semplicemente delle linee orizzontali in questo caso, ci accorgiamo che su questi livelli di prezzo Eni faceva qualcosa, ha fatto qualcosa, ha rimbalzato tantissimo. Perché siamo passati da 12 euro circa fino a un intorno di 20 euro. Quindi è tanto il guadagno in percentuale che ha fatto. Non l'ha fatto in un mese, l'ha fatto in tanti mesi. Però se immaginate già da questo mese a quest'altro mese qua, in pochi mesi, ha fatto un rimbalzo tecnico da 12, circa 16, 17. In percentuale, se noi ragioniamo da gestore di fondi, di un fondo, quindi del nostro patrimonio, ci rendiamo conto che in percentuale avremmo fatto un'ottima performance. Ok? Non voglio parlare solo in maniera positiva chiaramente, perché è ovvio che non sempre si fanno performance positive, anzi verosimilmente ci sono anche delle performance negative, ma ne parliamo dopo. Quindi questi supporti che abbiamo segnato, siamo andati a prenderli guardando un grafico senza alcun indicatore, solo dialogando col grafico. Vedete, ho tracciato anche un altro supporto di lungo periodo, che è questo qui, obliquo. Ok? Alcuni di voi che già fanno trading da tanti anni potranno dire, Fabio, ma quello non è un supporto, quello era una resistenza, e dopo vedremo cosa è una resistenza, perché il prezzo scendeva ogni volta che toccava questo livello dinamico. Ok? Io l'ho tracciato perché è vero quello che ho appena detto, che sicuramente voi avete notato. Ok? Però cosa è successo nella recente quotazione, nei recenti prezzi di Eni? È successo che il titolo ha rotto quella vecchia resistenza, si è appoggiato su questa congestione di prezzo e ha trovato un nuovo allungo long, ok? Un nuovo allungo rialzista in circostanze chiaramente favorevoli per il titolo, perché? Perché il titolo chiaramente segue l'andamento del Brent e del WTI, quindi la quotazione del petrolio americano, WTI ed europeo, Brent, ok? Del mare del nord. Quotazioni che con l'inflazione galloppante hanno corso parecchio, quotazioni di future dico, hanno corso parecchio, siccome il CDA di Eni va deliberato, dividendi crescenti in base alla quotazione del petrolio, allora chiaramente dividendi crescenti più utili, quotazione che sale. Però è ripartita andando a toccare questo livello di prezzo, ok? Dinamico e soprattutto questo livello di prezzo statico. Inoltre ha creato una bellissima formazione di supporto qui, da questo minimo Covid, altro minimo qui, se non erro cos'è qui, sì il calo dovuto alla guerra in Ucraina con la Russia, inflazione e quant'altro, incertezza dei mercati, ma è ripartito, è ripartito molto bene, da 10 euro circa a 11 euro, siamo arrivati intorno anche a 16 euro. In percentuale, riprendendo il discorso di prima, è tanto, ok? Fin qui tutto chiaro? Che cos'è un supporto? Utilizzate la chat gentilmente, più chat che Q&A perché faccio più fatica con la Q&A in questo momento. Piero mi dice, buongiorno nel tracciare una trendline, si prende la candela di massimo rialzo, più candele come migliori rialzi? Nel caso in cui all'interno della trendline diagonale vi sia una candela di livello più basso rispetto a quella successiva che è più alta e in rialzo? Non ho capito bene la domanda, però credo di intenderla in questa maniera qua, si prendono i minimi, quindi l'ombra della candela o si prende solo il corpo? Io prendo sempre i minimi perché a mio avviso se il titolo è andato a toccare quei prezzi là c'è un motivo e quindi secondo me è su quel minimo là, in quell'intorno di minimo che i compratori erano numerosi, hanno fatto rimbalzare il titolo o ritracciare il titolo nel caso di un ritracciamento del titolo. Ok, perfetto, tutto chiaro, tutto chiaro, perché il grafico mi dice Federico arriva fino a circa 2024, l'ho fatto apposta perché volevo lasciare dello spazio bianco, no? Noi che siamo dei trader vogliamo prendere delle posizioni e non le prendiamo in base a quello che ha fatto in passato, sì utilizziamo i grafici del passato per farci un'idea ma davanti abbiamo un foglio bianco e in quel foglio bianco dobbiamo scrivere la nostra storia con quel titolo lì, ok? E quindi io l'ho fatto apposta, ho messo quella parte bianca perché voglio immaginarmi cosa potrà fare il titolo se va a toccare qui potrebbe rimbalzare, se tocca qui e scende potrebbe arrivare qui e rimbalzare e prendere una normale via di crescita a livello percentuale, nel senso non fare magari delle performance del 10-15% al mese, magari 2-3%, una crescita più tranquilla, ok? Perché qui la crescita è stata molto alta, ok? Che cosa intende per ombra della candela? Dopo lo vediamo meglio ma sono quei minimi che la candela disegna e poi magari fa un'ombra molto molto pronunciata, nel senso il corpo della candela è formato con apertura, chiusura, ipotizzando una candela rialzista, apertura, chiusura più alta, magari ha fatto un massimo tanto più in alto e un minimo tanto più in basso, quelle sono le ombre, ok? Nell'analisi mi dice Piero di supporto e resistenza qual è l'orizzonte temporale migliore? Io personalmente parto da un grafico mensile, poi scendo sul settimanale, poi sul giornaliero, se opero nel medio-lungo periodo mi fermo lì, se opero anche nel breve-medio periodo, quindi operazioni di qualche settimana, un mesetto, qualche giorno, vado anche sul 4 ore orario, se opero nell'intraday vado anche sull'orario, un quarto d'ora, 5 minuti assolutamente, sappiate però che il supporto che ho tracciato qui sul grafico mensile vale anche sul grafico a 5 minuti, nel senso che quello è un livello di prezzo, il prezzo da lì ci deve passare, ci passa anche sul grafico a 5 minuti, ok? Bene, bene, adesso continuiamo con la definizione di supporto, su un grafico si possono creare infinite zone di supporto, è ovvio, no? Nel senso che io qui non le ho tracciate per non confondere le idee, soprattutto di chi all'inizio era la propria esperienza di trading, ma io potevo tracciare anche un supporto qui, potevo tracciare quindi anche un supportino qui, potevo tracciare, potrei tracciare una resistenza qui, ok? Non l'ho fatto, per non confondervi le idee però, si possono creare tantissime zone di supporto, stando a decidere quali sono i livelli di prezzo che sono più importanti e quali meno. Ipotizzato una persona che fa intraday, intraday vuol dire che opera in giornata, ok? Si traccia tantissimi livelli di supporto e di resistenza, ok? Io ho visto dei trader personalmente che tracciavano sul DAX supporti ogni praticamente 10 punti, perché facevano intraday, ma intraday voleva dire anche solo operazioni di qualche minuto, scalper, ok? E quindi si tracciavano questi supporti o resistenze, perché se quel supporto alla resistenza non veniva rispettato, dovevano chiudere la posizione, perché avevano quella regola di gestione del capitale. Entro su candela 5 minuti, 15 minuti, esco se quel pattern grafico non viene rispettato, perché la mia gestione del capitale prevede quello. Nel lungo periodo questo atteggiamento qui, se voglio adottare questa tecnica di trading, è vincente, ok? Va bene? Si parla di supporti di breve periodo, come detto prima, 5 minuti, un quarto d'ora, un'ora, quattro ore, ok? Si parla di supporti di medio periodo, dalle quattro ore, lo possiamo ammettere, al giornaliero settimanale, lungo periodo settimanale, mensile. Si parla di supporti statici, che sono questi qua, orizzontali, ok? E dinamici, che sono quelli obliqui, questi qua, ok? Questo qua, che ho unito, che ho tracciato, unendo dei massimi discendenti, e mi sono serviti per trovare il punto d'appoggio proprio qui, e convalidare questo supporto che si stava creando, ok? In ogni caso, non possiamo avere un supporto se quel livello di prezzo non è stato toccato per almeno due volte. Più aumentiamo il time frame, e più è corretto parlare di area di prezzo. Torno indietro nel grafico, scusatemi, perché sennò non ci capiamo. Allora, se questo supporto qui non è stato toccato per almeno due volte, non è un supporto. Io qui però potevo entrare, iniziare a investire, anche in ottica di lungo periodo, perché innanzitutto era il minimo storico, e potevo iniziare a mettere un cipettino. Seconda cosa, qui, qui già aveva fatto qualcosa, è un'area di prezzo, ok? Abbiamo parlato di area di prezzo, non devo prendere il centesimo spaccato, ok? Un'area di prezzo vuol dire che, sì, magari tocca i 5,50, ma potrebbe andare a 5,30, potrebbe non toccare neanche i 5,50, ma rimbalzare a 5,60. Se ritengo che quel titolo abbia degli ottimi fondamentali, eccetera, eccetera, allora ha senso iniziare a mettere poco capitale, ok? E iniziare a vedere come va. Non sto dicendo di non mettere lo stop loss, eh? Sto dicendo di iniziare a costruire una posizione. Se io voglio mettere 1.000 euro su Eni, magari inizio a metterne 500, e poi se mi convalida il supporto proprio sul minimo, metto gli altri 500, ok? E do respiro alla mia strategia, ok? Lascio correre, sì, ma poi metto uno stop loss e lo metto tranquillamente senza timore di perdere perché ho beccato lo stop loss. Perché se mi va a rompere questo minimo, magari potrebbe andare fino a qua e perdere il 50%, i miei 1.000 euro diventano 500. E per recuperare quei 500 che ho perso, con 500 devo fare il più 100%, ed è difficile, ok? Detto ciò, area di prezzo, anche qui, lungo periodo si parla di area di prezzo, ok? Area di prezzo, va bene? Fin qui tutto chiaro? Ok, perfetto. Allora, Gianluca mi dice, ai fini del calcolo del supporto, si considerano solo il prezzo, anche i volumi, quali sono gli elementi principali ai fini del calcolo del supporto? Grazie Gianluca per questa domanda, dopo magari lo vediamo su un grafico, i volumi sono importanti. Attenzione però, torniamo indietro, scusatemi eh, attenzione però, io qua i volumi non li ho messi perché il grafico veniva troppo ristretto. Capace che se andiamo ad aprire il grafico dei volumi, vediamo un volume che esplode qui su questi minimi, ha fatto un minimo con volumi in aumento, raddoppiati, triplicati, bla 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 bla, e poi però rimbalza. Cosa vuol dire? Vuol dire che è vero che lì i volumi sono aumentati, ma magari, come dire, sono entrati gli ultimi che volevano shortare quel titolo lì, e purtroppo sono entrati tardi, e chi aveva shortato, quindi venduto a ribasso dai massimi in alto, quindi i trader più esperti, i grandi fondi, speculativi eccetera eccetera, iniziano a chiudere le posizioni, ok? Iniziano a chiudere le posizioni, questo è importante, va bene? Quindi ci sono due facce della stessa medaglia per leggere i volumi, ok? E spesso e volentieri, vediamo quando fa il minimo i volumi sono in aumento, e poi rimbalza però. Come si fa a individuare i livelli di supporto? Unendo due o più minimi, attenzione che se tocca dieci volte il medesimo supporto, o resistenza, dopo lo vedremo, probabilmente quel supporto lì non è più valido, ok? Andiamo avanti. Cosa sono le resistenze? Verosimilmente le resistenze sono quei livelli del grafico dove i venditori sono più numerosi dei compratori, per cui si osserva un decremento di prezzo, si parla di sell area, viceversa supporti buy area, ok? Cosa significa fondamentalmente questa cosa qui? Guarda Fabio, mi hai appena detto che di là si compra, di qua si vende, ma come si fa a stabilire questa cosa qui? I venditori sono più numerosi dei compratori perché ci accorgiamo, qui, questo è il grafico di Nexi, ok? Supporto, sale, supporto, sale. Se qua, se uniamo questi minimi crescenti, era un supporto. Ci accorgiamo che i compratori sul book di negoziazione, il book di negoziazione è quello strumento che ci permette di capire come si comportano compratori e venditori, quindi sul book di negoziazione ci accorgiamo che ci sono pochi compratori in denaro e tanti venditori in lettera. I venditori sono venditori perché vogliono vendere le loro azioni, se ne vogliono disfare, hanno portato a casa il guadagno, hanno bisogno di liquidità sul conto corrente, tantissime motivazioni, ma vogliono vendere. Vogliono vendere, cosa vuol dire? che vogliono incassare del denaro, 1000 azioni per x euro ad azione, tot 1000 euro, devono incassare, ok? Ma si accorgono che i compratori sono scarsi, allora cosa fanno? Uno, vendono al mercato e fanno scendere il prezzo, quindi si accontentano del primo prezzo utile, magari ne hanno tante e hanno tante azioni e ci sono pochi compratori e quindi fanno scendere il prezzo, spazzano il buco di negoziazione, due, nel tempo abbasseranno le loro pretese di incassare determinati euro per azione e quindi iniziano a svendere tra virgolette le azioni e contribuiscono alla discesa sul mercato di quell'azione lì, ok? Quindi graficamente si viene a configurare un importante pattern di prezzo perché tocca una volta, tocca due volte, alla terza ho configurato la mia resistenza di lungo periodo. Questo è il grafico aggiornato stamattina, Nexi stamattina ha fatto più 10 anche, dopo vediamo live cosa sta facendo, non ho più visto, ho visto prima del webinar più 8, era più 7 se non erro, lungo periodo, tocca qui, crolla ancora, stamattina ha fatto il massimo al tocco della resistenza dinamica, ok? Obliqua dinamica, resistenza di lungo periodo perché ce la portiamo indietro, Nexi non ha una quotazione diciamo di tantissimi anni, qualche anno, ce la portiamo dietro da tante candele comunque, quindi di lungo periodo per il momento e anche qui resistenza di medio periodo, perché di medio periodo? Questa qua, scusatemi, statica, la prima in alto, statica, qui intorno a 7,94 euro e di lungo periodo perché è andata a prendere i minimi della quotazione, poi la quotazione, l'IPO è andata benissimo, siamo arrivati intorno a 20 euro e questo era un supporto, ok? Il grafico si è appoggiato nell'area di prezzo del supporto, si è appoggiato, l'ha rotto, l'ha ritestato ed è crollato. Resistenza di medio periodo questa qui perché qui aveva trovato un supporto, lo vedete qua, dove c'è la freccettina più o meno, aveva trovato un supporto, aveva fatto un rimbalzo tecnico, incrocia la resistenza di lungo periodo dinamica e trova, diciamo, il turbo purtroppo al ribasso per scendere ancora. Scende, rompe il vecchio supporto di medio periodo, ok? Rompe il vecchio supporto di medio periodo, lo ritesta e riscende, prova a ritestarlo ma viene rifiutato il prezzo e siamo qui in questa fase di congestione. Dovesse rompere questa resistenza di lungo periodo di dinamica, allora il primo target è la vecchia resistenza statica di medio periodo, se rompe anche quella magari avrà forza, avrà volumi per romperla, il primo target chiaramente è l'area di prezzo di vecchio supporto di lungo periodo che è divenuta resistenza di lungo periodo perché il prezzo si trova sopra. Allora, questo ragionamento che ho fatto capisco che è un po' contorto soprattutto perché all'inizio, ok? Avete capito il meccanismo di leggere un grafico? Noi in questo momento siamo sotto la resistenza di lungo periodo, sotto la resistenza di medio periodo va da sé che fin tanto che il prezzo sta sotto quella resistenza lì, il grafico non ha una tendenza positiva anche se oggi fa più 10, ok? E questi sono i livelli che dobbiamo monitorare. Un buon trader come opera? Può operare in due maniere, no? Va a prendersi dei rimbalzi tecnici e magari se aveva comprato qualche settimana, due settimane fa questo titolo probabilmente aveva fatto da 5 a 7 circa, 2 euro per azione, tanta roba, ok? Siamo nell'ordine del 40% circa, tanta roba. Inoltre, e quindi opera così, quindi specula ma chiude la posizione sulla resistenza. Un altro trader un po' più conservativo ma magari diciamo con ottica di investimento di medio periodo, lungo periodo, opera sulla rottura della resistenza se vuole andare long, ok? Se vuole andare short, short ha la resistenza e mette lo stop loss poco sopra la resistenza stessa, ok? Qual è il time frame del grafico di Nexi? Si legge qua, una settimana, questo è un grafico settimanale, non ho voluto mettere il mensile perché a poco storico ci rendeva, diciamo, una cattiva idea, non ci dava una visione completa il mensile, ok? Bene, quindi questa è la resistenza fondamentalmente, vedete che su Nexi attualmente sta ancora funzionando, ok? Verosimilmente non mi dilungherò molto, anche qui ci possono essere infinite resistenze, le possiamo trovare, tracciare, eccetera, eccetera, sono statiche, sono dinamiche, sono di breve periodo, di medio periodo e di lungo periodo, ok? Anche qui non possiamo avere resistenze, una resistenza si stocca solo una volta, almeno due volte, meglio se tre, se iniziano ad essere 5, 6, 7, 10, attenzione perché probabilmente quella resistenza A verrà rotta, già qui è 1, questo cluster di candele consideriamolo 1, 2, 3, 4, 5, occhio, ok? Non funzionerà all'infinito, o magari la rompe e ritorna indietro e la resistenza comincia a funzionare, va bene? Questo è il messaggio che deve passare, quindi non abbiamo trovato la soluzione a tutti i nostri problemi, la resistenza, vado short e faccio soldi a tutto andare sui mercati, supporto, vado long, faccio soldi a tutto andare sui mercati, assolutamente no, ok? E qui infatti mi collego al principio di interscambiabilità, supporto, resistenze sono fatti per essere rotti, sono fatti per essere rotti, ok? Cosa significa? Significa che prima o poi il prezzo, quel supporto magari non lo sente più, non è più interessante, il mercato vuole andare a vedere un supporto un po' più giù, lo rompe senza troppi giri di parole. La resistenza non è più interessante, il mercato valuta di più quell'azione là, la valuta magari un euro in più, due euro in più, è uscito un giudizio positivo da parte di alcuni broker, alcune agenzie di rating su quel titolo e allora quella resistenza viene rotta senza troppi problemi. È chiaro che se è una resistenza di medio periodo avrà, diciamo, i compratori avranno meno difficoltà a romperla. Se è di lungo periodo, parliamone, però anche quelle di lungo periodo, resistenze, supporti, sono fatte per essere rotti. Allora, facciamo alcuni esempi sul DAX Future settimanale, si legge qui, è un po' piccolino ma si legge, perché abbiamo parlato di interscambiabilità, dopo rispondo alle vostre domande e voglio farvi capire che cos'è questa interscambiabilità quindi. Abbiamo preso un indice, un future, ok? Questo è il motivo per cui vi dicevo, se vi abilitati i derivati, avete le quotazioni sui future, potete studiare questo mercato finanziario, studiare i future è, secondo me, fondamentale, operare sui future anche meno, nel senso che se non ce la sentiamo non dobbiamo operare sui future, possiamo operare sui CFD che magari hanno meno valore nazionale, possiamo operare su delle ETF, su delle TC, sui principali titoli del DAX in questo caso, o del S&P 500, o del Putsimib e quant'altro. Però il future diciamo che governa l'andamento, le quotazioni dei mercati, tutti i future, da quelli americani a quelli europei e così via. Quindi abilitarsi non costa nulla e così avete le quotazioni che potete fare gli studi del caso. Inoltre sono aperti anche di notte e quindi di notte succede sempre qualcosa sui mercati finanziari. Al mattino alle 8, alle 9 che apremo il nostro portafoglio sappiamo cosa è successo. Ad ogni modo, interscambiabilità, cosa significa questo grafico settimanale, questo era il crollo del 2020, il Covid recupera, vedete, è un indice molto forte, quindi ha recuperato, no, senza problemi, perché problemi ci sono stati, assolutamente, probabilmente ci portiamo dietro ancora qualcosina di quel periodo lì, recupera, arriva su un, diciamo, su una zona, diciamo un po' di ipercomprato, no, dove era un po' tirato il future. Però qui aveva creato una zona di supporto, lo vedete quante volte era toccato? Qui fa dei massimi non crescenti, con una candela di inversione, quella verde che vedete, e un'altra candela di inversione, quella rossa, quindi conferma, inizia a scendere a fare dei massimi decrescenti, prova a testare questo supporto senza esito positivo, lo rompe, lo ritesta e parte al ribasso, si rialza e testa questo vecchio supporto che diviene la resistenza. La resistenza funziona? Sì, perché qui si poteva fare molto trading al ribasso e portare a casa dei risultati in percentuale anche abbastanza buoni, no? Anche perché poi tocca, tocca di nuovo questa resistenza statica, ma c'era anche la resistenza dinamica e ci dà il là con un rintracciamento molto molto pesante, ok? Fatto da 1 e 2 onderi bassiste e addirittura qua si poteva chiudere la posizione dei bassisti e aspettarla qua, ok? Quindi interscambiabilità vuol dire proprio questo, ok? Il movimento che ha fatto è questo qui. Come vi dicevo prima, supporti e resistenze sono fatti per essere rotti, questa è una resistenza dinamica che ha funzionato molto bene, ci ha fatto guadagnare in questi mesi qua, ok? Ci ha fatto guadagnare e anche bene, con una certa, diciamo, tecnica, tranquillità, il mio stop loss messo poco sopra la resistenza non è stato preso, più volte tra l'altro, ok? Assolutamente, però supporti le resistenze sono fatti per essere rotti. Viene rotto con un certo vigore questo livello qua, vedete questa candela qui? Viene rotta, quindi alla rottura potevamo operare long, come? Metto un contratto, mi compro un contratto di CFD, mi compro un ETF, un ITC, quello che volete, metto lo stop loss sotto la resistenza, ok? E' andato un po' sotto, ok? Quindi probabilmente mi veniva preso lo stop loss, se agivo con meno capitale, magari potevo mettere uno stop loss un po' più largo, non mi prendeva, è andato a rialzo in maniera molto, molto tecnica, ma dove si ferma? Sul vecchio supporto che è diventato resistenza. Lo sente, riparte, rompe, rompe la vecchia resistenza che diviene supporto, lo testa qui, lo testa qui e riparte verso nuovi massimi, ok? I nuovi massimi sono questi qui. Il DAX sembra essere un po' arrivato, è stanco, si parla di recessione, l'economia, anche se è una grande economia, la terza economia al mondo, recentemente ha superato il Giappone, la Germania, però sta facendo fatica, i tassi di interesse, l'edilizia che trova difficoltà per i tassi di interesse e gli ordinativi che si abbassano, ok? Anche se è una grande economia sta risentendo un po' del ciclo economico, ok? Scusatemi. E in questo momento qui è andato a creare una fascia di resistenza di breve e medio periodo, ricordiamoci che una settimana, ogni candela è una settimana, breve e medio periodo, è recente questo movimento che sta facendo. Questo supporto ha funzionato pochissimo, è stato rotto, è stato ritestato, è sceso, il supporto di più lungo periodo ha funzionato e qui ci troviamo davanti al nostro foglio bianco da scrivere, ok? Il nostro foglio bianco da scrivere ha toccato solo una, due, toccherà la terza volta, probabilmente ci dirà di provare qualche posizione short di breve periodo, attenzione di breve periodo perché il DAX è rialzista nel lungo periodo, ok? Quindi non posso andare contro il mercato nel lungo periodo, nel lungo periodo il mercato è rialzista, ok? Se questa posizione va qui sul supporto potrei pensare di portare a casa il risultato, vedere cosa succede, ok? Se rompe a ribasso questa trendline statica, allora la posizione ribassista può diventare di breve e medio periodo perché nel lungo periodo il DAX è sempre rialzista, ok? Se vedete il grafico è rialzista e allora posso pensare di aprire con stop loss qua sopra una posizione ribassista di breve e medio periodo dove la devo andare a chiudere probabilmente su questo livello qui dove il grafico era arrivato era sceso, adesso funge da supporto, era una vecchia resistenza, funge da supporto, era il massimo periodo del crollo del covid in poche parole, ok? Tra l'altro dove passa anche questa fascia di prezzo qui dove abbiamo visto che ha ritracciato un po' ed è ripartito, quindi questo è un supporto di breve e medio periodo, ok? Dove se rompere invece questa trendline e quest'altro supporto che è divenuto resistenza, allora probabilmente potrebbe andare ad attaccare i massimi. Il grafico va letto così, vedete non ho usato indicatori, oscillatori, nulla, nulla, il foglio bianco lo scriviamo noi, poi possiamo andare a farci aiutare da cosa? Da degli indicatori che sono le medie mobili, che ci danno un'idea del prezzo se è sotto la media di breve, medio, lungo periodo o sopra e allora quelle ci danno un'indicazione in più. Poi possiamo prendere degli indicatori di forza relativa, di ipercomprato, ipervenduto, ma dopo li guardiamo, ci servono solo per conferma di quello che abbiamo visto sul nostro grafico pulito, ok? Questo era un esempio che volevo farvi perché è di estrema attualità, ok? Ci troviamo proprio in una fase di congestione, i compratori e i venditori non sanno cosa fare, ogni volta che tocca qui scende, ogni volta che tocca qui risale, ma si sta andando a incuniare in quell'angolo lì e poi sicuramente i compratori e i venditori decideranno da che parte stare. Magari sta così ancora per qualche mesetto, sta al mercato laterale e poi prende direzione, ribassista o rialzista. Probabilmente magari tagliano i tassi tra x mesi e allora ricomincia a crescere perché l'economia magari ricomincia a risalire, oppure i tassi rimangono così e allora c'è qualche difficoltà e vado a vedere delle quotazioni un po' più basse per provare a ripartire verso un sentiero di crescita di lungo periodo, ok? Perché si creano questi i livelli di prezzo? Finisco le slide e poi andiamo sulle domande e sui grafici live perché coloro che operano sui mercati finanziari, tra le tante tecniche che adottano per decidere se entrare o meno su un titolo, guardano anche e secondo me soprattutto alla tecnica più semplice, basata sui supporti e sulle resistenze. Seconda domanda del sondaggio, le usate? Sì, no, voglio approfondire meglio. Sappiate che supporti e resistenze le guardiamo noi trader diciamo retail, le guardano quelli che operano nei grandi hedge fund, le guardano gli analisi tecnici, chi fa i report su Reuters, Bloomberg e quant'altro, ok? Supporti e resistenze li guardano tutti e la base dell'analisi tecnica. Partendo dalle cose semplici a mio avviso e tralasciando quelle complesse possiamo intraprendere la strada di successo in questo mestiere, ok? Allora andiamo adesso sulle domande, però prima di farlo andiamo un attimo a vedere, sicuramente mi ha buttato fuori, ok? Qui no però, su Fineco X non dovrebbe avermi buttato fuori, però rifaccio anche l'accesso sul sito, così. Ok, intanto vediamo che i mercati sono positivi quest'oggi, andiamo a vedere le domande. Sono tante. Per Nexi ora si può parlare di supporto, abbiamo visto che c'è stata un'ottima reazione e quindi supporto di breve periodo sì, assolutamente, lo tornerei monitorato a quel livello. certo Davide, adesso apriamo Fineco X e tracciamo supporto e resistenza insieme. Nexi se dovesse rompere la resistenza dinamica prima di cambiare il trend da ribassista a resistista dovrebbe rompere la resistenza statica? È corretto? Sì, nel senso che questo è il grafico di Nexi, facciamo full screen, questo è il grafico di Nexi, lasciamo sempre il settimanale e dovrebbero rompere prima questa, poi questa e poi secondo me anche questa qui, ok? Per parlare di un cambio di tendenza, ma perché? Perché qua c'era il minimo storico in fase di IPO e secondo me è un livello chiave, ok? Attenzione che se rompe poi non è che parte al razzo, ritesta, riparte, ritesta, magari è snervante per qualche settimana, ok? Ma fa parte di questo mestiere, non arrivi i saldi, ordini messi sempre in macchina, guardo il grafico ma non in tutti i minuti e ho già i miei obiettivi di prezzo, di stop loss e di tiki profit, ok? Time frame su Nexi era settimanale, è settimanale. Come si fa a visualizzare un grafico storico future su Fineco X? Così, andando qui, questo è il grafico del DAX. Sì, il grafico del DAX mi ha perso tutto, ve lo faccio vedere qua. Rotella delle impostazioni, grafico continuo, ok? Sempre continuo, eh? Non andate mai sul grafico scadenza perché se fate analisi tecnica dovete avere i prezzi passati. Come fai a dire che è rialzista di lungo periodo? DAX immagino intendi Mario, per questo motivo, è un grafico a un mese, ok? E prendiamo la trend line, grafico a un mese, che da questi minimi qua storici, più o meno, ti fa, fino ai massimi, anzi scusatemi, fino ai prezzi attuali circa, ti fa un più 1000%, lo vedi qua in alto, il 1000, no? Dove c'è quella vignetta che aggiorna i dati, un più 1000% circa, fino al massimo storico è arrivato a 1050% circa. E' rialzista di lungo periodo, assolutamente, ok? Uno e due, perché se tu vai a unire, a vedere, i minimi sono crescenti, i massimi sono crescenti, si è un po' stancato chiaramente, cioè deve trovare nuova linfa, però è rialzista di lungo periodo, ok? Piero mi dice, hai detto di mettere lo stop loss poco sopra la resistenza, o poco sotto il supporto chiaramente, ma di quanti tico e percentuale come principio è sempre applicabile? Allora, ci sono tre principi, monetario, voglio guadagnare 100 euro, e al massimo sono disposto a prendere 20. E' un principio, diciamo, base. Chi è all'inizio nel mercato, nei mercati finanziari, utilizza questo principio. Dopodiché andiamo sul principio risk reward, nel senso, voglio perdere 1 per guadagnare 3. Rapporto 1 a 3, il famoso rapporto 1 a 3. Dopodiché, diciamo che, a mio avviso, è un'opinione personale, il ragionamento un po' più sofisticato è sempre ragionare in percentuale, in termini percentuali, perché la percentuale, quella che tiriamo giù a fine anno, quella che tirano giù anche i grandi fondi di investimento, abbiamo guadagnato il 12%, il mercato ha fatto 6%, siamo stati più bravi del mercato, il mercato ha perso il 10%, ne abbiamo perso solo il 2%, siamo stati più bravi del mercato. Ok? Quindi, io direi, se è un'operazione di breve periodo, in effettante al giorno, ti devi basare sullo 0, oppure al massimo 1 o 2%. Se è un'operazione di medio periodo, un po' di più, se è un'operazione di lungo periodo, magari ti basi a un rischio del 5%, per esempio, diversificando poi il portafoglio, chiaramente, per guadagnare il 50%, 60%, 70%, lungo periodo. Il lungo periodo non è un mese, sono anni. Michael, si stima che il 90% delle persone perde soldi nel fare trading, perché? Perché molti non adottano il principio di conservazione del capitale, money management e gestione del capitale. Gestione del capitale è uguale, metto sempre lo stop loss e poi il take profit. Molti aprono operazioni così, senza saperne leggere e scrivere, spesso e volentieri, ma senza alcuna offesa, magari in questo momento io vado a long di DAX. Ok, ma non ti sei accorto che c'è una resistenza qui? Perché vai long? Vai long se rompe la resistenza. Ok, io vado a long di DAX, qui a toccato il supporto posso provare, ma prima io metto lo stop loss, lo definisco, e lì c'è il dovere, lo rispetto con lo stop loss, anche se è una perdita. Molti tolgono lo stop loss e lasciano correre, magari lasciano correre. In una situazione in cui ti va contro così, ti perde, vediamo quanto aveva perso, che non mi ricordo più, ti perde il, scusate, c'ho una finestra davanti, ti perde il 40% circa, e tu magari poi arrivi al meno 40, non ce la fai più e chiudi la posizione. E poi dici, no, se tenevo la posizione recuperava tutto e guadagnavo. Oppure molti perdono, e non è il caso di Fineco, perché vanno in conto al margin call. Ok? Cosa significa? Significa che lascio ancora la posizione, si fanno rodere il capitale liquido sul conto corrente e si fanno rodere tutto. Con Fineco questo non è concesso, per fortuna. Ok? Sì, uno di voi mi dice le resistenze e i supporti servono solo in assenza di news macro e micro. È vero, è vero, se ci sono delle notizie clamorose, a volte non funzionano, è vero. Ma se noi pensiamo alla curva di Gauss, una gaussiana, statisticamente queste notizie, stanno nelle code, no? Nel senso che sono rare. Ad esempio, possiamo prendere pandemia, guerra, eccetera, eccetera. È vero, è vero, assolutamente. Il coro dell'elettore di Gemelle, è vero. È assolutamente vero. Va bene? Ma quelli sono cose non prevedibili. Allora, ci sono tantissime domande, però andiamo avanti con, andiamo avanti con dei grafici e andiamo a vedere innanzitutto Nexi che sta facendo. È ancora ferma lì. Vedete che vi metto un grafico giornaliero. Vi faccio vedere che ha fatto oggi. Ok? È lì, è lì. Anzi, in una situazione in cui, aperto in GapUp, ha fatto un massimo. È scesa, quindi i venditori, ok, io mi porto a casa il mio 10% rispetto alla chiusura di ieri, e vediamo, è in una situazione paradossalmente critica. Perché? Perché vedete che attualmente il prezzo è sopra la resistenza. E come agiamo noi? Buon trader? O opera da scalper, apre e chiude la posizione e mette lo stop loss, ok? Oppure aspetta la chiusura di oggi. Se oggi chiude sopra la resistenza, ci sono possibilità affinché possa andare a prendere questo massimo qui, e quindi questa altra resistenza qui. Poi magari ritraccia, ritraccia, trova forza per rompere. Se chiude sotto, attenzione a campanellino d'allarme, campanellino d'allarme, perché chiude sotto la resistenza di lunghissimo periodo, di lungo periodo, scusatemi, lunghissimo no perché non ha tanti anni di quotazione, e quindi, attenzione, aspetterei quindi la chiusura settimanale. Magari domani, venerdì, va, chiude sopra, quindi oggi chiude sotto. Domani, venerdì, si rialza un pochino, fa una bella candela, magari con un corpo piccolissimo, che potrebbe essere vista anche magari come una candela di indecisione a un trend ribassista di lungo periodo, e quindi potrebbe andare a beccare questi livelli qui. Quindi aspettiamo la chiusura, soprattutto settimanale, ok? Sul mensile, per curiosità andiamo a vedere che sta facendo, sul mensile, vedete, qui andrebbe tracciata così, e andando a prendere, scusatemi, andando a prendere proprio il punto di massimo qui, e il punto di massimo qui, questi tre, ok? Vedete, l'ho modificata un po', e vediamo che sta facendo, ok? Vediamo cosa fa. Allora, andiamo a prendere magari altri grafici, ok? Avevo preso anche il grafico di Eni, ma ve l'ho messo nella slide, non starei a rivedere, però vedete com'è, candela è indecisione, candela ribassista questa settimana, probabilmente chiude bassa, il petrolio anche sta scendendo parecchio, potrebbe andare a beccare qua, intorno a 13,50 euro. Allora, andiamo quindi a vedere, se volete, l'S&P 500, direi, ok? L'S&P 500, per chi è, all'inizio, non ha mai sentito parlare di questo strumento, è uno dei future più importanti al mondo, il future è americano, ci dà l'andamento sottostante dell'indice S&P 500, dove sono quotate le 500 aziende più grosse americane, quindi è importantissimo, muove il mercato, muove anche il mercato italiano chiaramente, perché lo influenza, ok? Andiamo a prenderci il grafico di dicembre, che è questo qui, ok? Come facciamo ad aprire il grafico? Andiamo qui e lo trasciniamo con il drag and drop, ok? Lo trasciniamo con il drag and drop, vogliamo aprire a full screen per vedere meglio, e andiamo qui, ok? Adesso facciamo così, cambiamo il tema, lo mettiamo bianco, e qua l'asse nero, ok? E mettiamo tutto verde, vi faccio vedere anche un po' come si sentono queste cose su Fineco X, mettiamo tutto verde, è tutto rosso così si vede un po' meglio, ok? E diamo salva. Allora, per andare a aprire il grafico continuo, clicco qui, grafico continuo, mi dà tutto lo storico, ok? Tutto lo storico, magari andiamo su base mensile, così vedete anche questo qua, è un rialzista, e andiamo a vedere cosa sta facendo, vedete anche sul grafico mensile, che ha avuto una fase di ribasso, poi seguita da una fase di rialzo, una fase di rialzo, dove è andato a costruire questi minimi, crescenti, quindi che fungono da supporto, ha funzionato, secondo me, egregiamente, ha fatto una falsa rottura, ok? Una falsa rottura, cosa significa? Che finge, tra virgolette, di rompere il supporto, la resistenza, e poi prende il trend inverso, l'altro trend, quindi qua era ribassista, pensavano di andare short, invece niente da fare, l'economia americana è forte, e si vede, e qui ci sta andando a dire che vuole andare, scusatemi, a rompere, andiamo su base settimanale, perché faccio un po' più di fatica, vuole andare, anzi l'ha già fatto probabilmente, andiamo a ritracciarlo qui, sì, l'ha fatto, l'ha fatto proprio questa settimana, ha rotto questa resistenza, e sta andando a tracciare, un trend rialzista, un nuovo trend rialzista a mio avviso, perché esce anche da questa fase di congestione a bandiera, attenzione, qui anche il mio collega ha segnato questo livello di prezzo, quest'area di prezzo qui, intorno all'area 4410, 4420, 25, se rompe anche questo, che è il massimo di questa candela verde, allora abbiamo ottime view per andare a prendere 4530, e poi questo massimo qui, intorno a 4630, aumenta, quindi, che dire, la lettura del grafico si fa in questa maniera qui, quindi settimana scorsa abbiamo avuto già un'indicazione rialzista, perché questa candela è stata effettivamente una candela di conferma, perché il corpo supera il corpo precedente, anzi lo sovrasta, il corpo verde sovrasta, il corpo rosso della candela ribassista, lo sovrasta con un'ottima conformazione, perché vedete che le ombre sono piccole, sono minime, il massimo non è distante dalla chiusura rialzista della candela, rompe la resistenza e la usa da supporto, ok? Vi faccio vedere come si traccia una trendline però, va bene? Perché chiaramente, me l'avete chiesto prima, poc'anzi, una trendline si traccia da qui, allora, vado qui su disegna, noi ce l'abbiamo nei preferiti, di questo oggetto tecnico, si chiama segmento, se non ce l'avete tre preferiti, lo trovate qua in basso, ok? Lo trovate qua in basso, eccolo qui, anzi no, scusatemi, trendline, eccola qui, trendline, e basta cliccare una volta col tasto sinistro del mouse, e poi senza ricliccare, tengo sposto proprio il mouse, dove voglio io, e riclicco il tasto sinistro, e poi me l'aggiusto, ok? Me l'aggiusto come? Andando ad unire, per esempio, qui, questi massimi decrescenti, ok? Guardate qui, come ha funzionato, uno, due, tre, quattro, rompe, ritesta, riparte, ritesta, e parte tantissimo, quindi, prende proprio in là, e lo fa, su questo punto qui, e mi va a creare un altro, supporto dinamico qui, capisco che, il concetto, possa essere un po', difficile, però, cercate di entrare nell'ottica di idee, che questo è il funzionamento, questa è la chiave di lettura, di supporto e resistenza, ok? Vi faccio vedere come si traccia poi, un supporto, e quindi anche una resistenza statica, basta andare qui, su orizzontale, ok? Questo qua, è un supporto, ok? L'ho tracciato, questa qua, lo riseleziono, è una resistenza, questo massimo qui, quindi, cosa mi aspetto io? Mi aspetto che, probabilmente, siccome l'economia dominicana è forte, i tassi poi verranno tagliati, le borse continueranno a correre nuovamente al rialzo, potrà arrivare qui, intorno aria, e andiamo a prendere qui il mirino, chiudiamo qui, e intorno aria 4800 circa, e potrebbe prendersi un attimo di respiro, una pausa, ok? E quindi lì cosa faccio? Io se sono rialzista, inizio a chiudere le mie posizioni, se voglio scommettere, scommettere io non lo amo come termine, a ribasso lo posso fare, stop loss è inserito in macchina, poco sopra questa resistenza. Se rompe anche questa resistenza, vado, ho due possibilità, come ho detto prima, apro subito, quindi la rompe oggi, non è ancora finita la settimana, perché finisce domani, apro subito, non mi interessa, non voglio perdere il treno, aspetto domani, aspetto la settimana, se chiude sopra, la settimana dopo, apro una posizione, di a questo punto, medio periodo direi, anzi facciamo così, di breve periodo, che poi può diventare di medio, poi può diventare di lungo. Una volta rotti i massimi, c'è poco da fare, il trend è rialzista, ma lo vediamo, semplicemente, da qui per esempio, Apple, andiamo a prendere il grafico di Apple, componente, grafico, se noi mettiamo un grafico mensile, questo è un esempio che io faccio sempre, magari sarò ripetitivo, ma questo era un massimo, è stato rotto, sì, ha fatto nuovi massimi, questo era un massimo, è stato rotto, sì, ha fatto nuovi massimi, questo era un massimo, è stato rotto, sì, e ha fatti di nuovi, ok, e vedete che non c'è niente da fare, il trend è rialzista per il momento, è una delle migliori aziende al mondo, forse è la migliore, almeno nel suo campo, fa utili, assolutamente sì, distribuisce i dividendi, gli azionisti vengono remunerati, assolutamente sì, e non c'è niente da fare, il trend è rialzista, ok, se scendiamo di time frame, andiamo sul giornaliero, vediamo, molto bene, e vi faccio rivedere, trend line, vediamo molto bene, come una trend line ribassista, è stata recentemente rotta, dovesse quindi ritestarla, potrebbe essere punto di approdo per i compratori, per andare a vedere le carte, fino ai massimi, intorno alle 200 dollari, va bene? Allora, andiamo sulle domande, andiamo sulle domande, Allora, 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 un istante, ce ne sono tantissime, ok, allora, Lucio, ti ho risposto come state facendo le resistenze, i supporti sul grafico fineco X, l'ho fatto vedere anche adesso, la regola dello stop 1 a 3, del take profit, ha senso, Carlo? Sì, ha senso, ha senso, perché comunque, una delle prime regole che insegnano, quando si inizia a fare trading, almeno, rischio il rendimento di 1 a 3, vuol dire che rischio 1 euro, per guadagnare 3 euro, fondamentalmente, ok, 10 euro, per guadagnarne 30, va bene? Ha senso, assolutamente sì, però, io farei un passo in più, ragionerei in percentuale, sempre, ma perché dobbiamo ragionare in percentuale? scusatemi se insisto, l'inflazione è al 10%, il mio portafoglio mi rende il 4, il 5, sono in perdita, l'inflazione è al 10, comunque il mio capitale è stato eroso, meno che tenere i soldi fermi, ma comunque sono in perdita, ok, e quindi dobbiamo ragionare in percentuale, poi nessuno ci sta, ci giudica, non sei stato bravo, non è abbottuto neanche l'inflazione, assolutamente no, però, è un metro di giudizio, di paragone, è di crescita, è un momento di crescita quello, domanda sicuramente banale, Vincenzo mi dice, se vado in short, cosa inserisco? Take profit, stop loss, se vogliamo marginare sulla perdita dell'azione, inserisci sempre il take profit e lo stop loss, il take profit sarà più basso, ad esempio, se io vado short su Apple, alla rottura di questo minimo qui, il take profit lo metterò qua a 150, per esempio, lo stop loss qua a 170, per esempio, ok? Poi lui mi dice, lo stop loss si usa solo per limitare le perdite, c'è un livello al quale il titolo non deve essere venduto automaticamente, una volta arrivato il risultato voluto, lo stop loss si usa per limitare le perdite, una piccola postilla è questa qui, allora, se io metto uno stop loss su Apple, per esempio, vado short qui, metto uno stop loss qui, ok? Anzi, a 170, non mi ritondi, per la semplicità della spiegazione di questo webinar, ma Apple, un bel giorno, è di bassista, E se la temistale mi apre a 190, io ho messo lo stop loss a 170, viene eseguito, ma non a 170, a 190 purtroppo, perché viene eseguito non appena la condizione si verifica, e al prezzo del momento perché è a mercato, ok? Claudio mi dice, per quella che è la tua esperienza, quando un titolo salendo arriva a una resistenza, è più probabile che la rompa superandola, o al contrario la senta e inizia a scendere? Dipende dal ciclo economico del momento, quindi se l'economia è un po' debole in recessione, si affaccia alla recessione, può darsi che faccia fatica, dipende dai giudizi delle grandi banche di investimento, i grandi fondi, eccetera, eccetera, e dal trend di lungo periodo. Apple, non ha avuto problemi a rompere i massimi precedenti, quindi la resistenza precedente, ok? Anche, credo, se andiamo a vedere Microsoft, Coca Cola, Mcdonald, ok? Vincenzo mi dice, compra sui rumours e vendi sui fatti, esatto, esatto. Cosa significa questo? Soprattutto perché è l'inizio sui mercati finanziari. Tra una settimana esce la trimestrale, il rumor è che la trimestrale sia molto buona, inizia a fare più 1, più 2, più 3, più 1, più 2, più 3 per qualche giorno, esce la trimestrale, oggi il titolo fa meno 5, meno 6, meno 7, ma come? La trimestrale è ottima, tutti i dati, i dividendi in aumento, perché fa così? Spesso succede, ok? Allora, Carmela mi dice, Nexi oggi ha aperto a più 10, come facevo io a sapere di essere dentro? Come facevo effettivamente a prevedere che rompeva la resistenza? No, questo non lo puoi prevedere. Se andavi a leggere le notizie di ieri, si diceva che l'ultima settimana sarebbe stata ottima, che c'era la probabilità di bla 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 bla, e infatti è successo, ok? Non lo puoi assolutamente prevedere. Vediamo un attimo una cosa, grafico volumi dovrebbe essere, eccolo qua, eccolo qua. Per rispondere alla domanda di prima sui volumi, ok? Volumi in aumento, sul minimo, però poi ha rimbalzato, quanto ha fatto Nexi da questo minimo qua? Vediamo, compreso il prezzo attuale, più 31, più 30, vai, più 30, ok? Ma su alcuni libri c'è scritto che se i volumi in aumento, i nuovi minimi, allora è short. Sì, ma magari io prendo la parola short qua, e sono sotto del 25, del 20%, no? La parola short qua, in questa giornata qua, e sono sotto del 20%. Non sempre è così. Attenzione, ok? Allora, Piero mi dice, non ho capito il tracciamento della trend linea. Sì, non mi ha tenuto il settaggio, effettivamente. Ritracciamola insieme. Allora, vedete? Devo andare a beccare questo massimo qui, e quindi questo qui, beccando questi due, mi becca anche questo e questo. Va bene? Come faccio a farlo? Faccio così, tiro la trend line, vado giù, ok. Questa è la trend line corretta. Non so se, perché scendo sul giornaliero e me la, me la smonta. Allora, Carlo, ottima domanda. come mai Apple cresceva ma moderatamente, poi i trend sono iniziati a diventare più ripidi? Mi dai l'assist per spiegarvi una cosa, mi ero dimenticato e grazie. Quando il, la trend line è ripida così, vedete questa trend line qua? Cioè, io penso, un'inclinazione, siamo veramente a inclinazioni importantissime, quasi a 90 gradi. c'è, ora, non ho uno strumento per misurare l'angolo, però, credo che sia, cioè, 90 gradi siamo così, cioè, siamo veramente a una pendenza importante. se vedete qui, la pendenza inizia a essere un po' più ragionevole, ma comunque importante. Le pendenze, le trend line, diciamo, secondo me, più affidabili, sono quelli che hanno pendenza al massimo sui 45 gradi, ok? Anche un po' meno, nel senso, una crescita costante nel tempo e duratura, ok? Costante nel tempo, magari una crescita importante negli anni, ma che in un anno non mi faccia il più 50%, perché vuol dire che poi quella crescita lì viene rotta, le trend line con una pendenza così ripida vengono rotte, vengono rotte e il titolo torna verso la sua media. Vi faccio poi vedere come mettere le medie, media mobile, ok? Questa è la media mobile a 50, poi solitamente media mobile la possiamo mettere anche sui 200 e la mettiamo di un altro colore, magari gialla, e poi possiamo mettere una media mobile fatto, poi possiamo mettere una media mobile di breve periodo intorno ai 20, periodi, ok? Ora non abbiamo la possibilità di spiegare la media mobile, ma ci sarà un webinar dedicato sulle media mobile, quindi vi invito a iscrivervi, vedete che il prezzo è costantemente sopra tutte e tre le medie, su un mese, su una settimana e sopra la media di lungo e di medio e di breve l'ha rotta proprio questa settimana, sul giornaliero vediamo che sta facendo e sopra tutte le medie, ok? Bene, non vi spiego le strategie sulle medie mobile perché nel webinar della settimana prossima lo faremo, senz'altro, quindi vedo se ci sono altre domande, esiste una guida di tutti gli strumenti disponibili su Fineco X, sì, sì, ci dovrebbe essere l'help di Fineco X, come faccio a tracciare supporti di esistenza dinamico semidinamiche, in che senso? L'ho fatto vedere anche adesso, lo faccio rivedere, prendo la trendline e traccio, ok? Questo è un supporto dinamico, statico invece è questo qui, orizzontale, metto qui e questo qua è un supporto statico perché questo minimo è ripartito. Ok, allora, questo webinar è stato registrato? Sì, dovreste vedere che il meeting recording is in progress, quindi assolutamente sì, ci sono tantissime, veramente, c'è stato tantissimo interesse su questo webinar, io, come sempre, vi invito a iscrivervi ai prossimi corsi di settimana prossima, a questo punto, lo sguardo ai mercati, fiscalità e investimenti, è un webinar che abbiamo fatto apposta, siamo a fine anno, cerchiamo di essere diciamo, dinamici anche fiscalmente, saremo con Emanuele Colacchi, ci sarò io, quindi anche lì passa parola amici e parenti tutti perché è un webinar veramente, veramente importante, secondo me, perché la fiscalità sugli investimenti è una parte importante, viene dopo, ma è quella che diciamo, ci deve interessare forse anche di più. Il vero potenziale delle medie mobili a completamento del corso di oggi, chiaramente, è stato pensato apposta, e poi, incertezza negli investimenti, quattro strategie per gestire efficacemente, l'incertezza, chiaramente, è un webinar più investing, più di lungo periodo, però molto, molto interessante, poi via via fino a fine novembre e poi pubblicheremo dicembre. Un saluto, buon webinar a tutti e buona serata. Un saluto, grazie.